Benvenuto su Hermes.net, la via migliore per viaggiare, scoprendo il mondo del turismo responsabile e sostenibile. Viaggiatori, strutture recettive, organizzatori di viaggio, guide turistiche e comunità locali, uniti da una nuova visione e da un nuovo stile di turismo. Eco, a basso impatto ambientale, di cultura, di scambio e scoperta. Un turismo partecipato, che preserva rispetto ai sviluppi i patrimoni del territorio. Una comunità di viaggiatori che si informa, trova nuovi compagni di viaggio e sceglie dove viaggiare e dove essere ospitato, anche in base a caratteristiche etiche di sostenibilità ambientale e di effettiva relazione col territorio. Un viaggiatore che cerca autenticità per vivere una reale esperienza di viaggio e di vita. Una comunità di imprese e professionisti che promuove ed offre alternative di viaggio, organizzato ed auto-organizzato. A supporto di questa rete, Hermes.net ha creato una piattaforma web che consente a tutti questi soggetti affini di entrare in contatto, di conoscersi, di esplorare idee e di selezionarle in base alle proprie caratteristiche, valorizzando gli aspetti di responsabilità sociale e di minore impatto ambientale. E per facilitare la diffusione di queste iniziative, tutti i contenuti e gli utenti sono connessi attraverso il web e di social network, i telefoni smartphone, i GPS e la televisione digitale. L'iscrizione è libera se condividi i valori del turismo responsabile. Hermes è tecnologia, creatività e passione al servizio del turismo responsabile. Iscriviti su www.hermes.net